L'incertezza che orbita intorno al futuro del nuovo ospedale genera preoccupazione non solo quella dei cittadini ma anche quella dei commercianti, almeno una ventina e negozi chiusi nell'area di via Giustiniani, in calo anche le presenze alberghiere. L'allarme è lanciato da Confes Arcenti che chiede una decisione immediata. La soluzione dei due poli, uno a Padova Est e l'altro più cittadino nel sito attuale, è messo a rischio dal sindaco Giordani che non vuole cedere gratuitamente le aree di San Lazzaro alla regione. Abbiamo due poli, abbiamo un sistema che forse completa meglio. Per il nostro punto di vista è chiaro che risolve uno dei problemi legato alle attività economiche che insistono sul territorio, che sono storiche, attività storiche. Abbiamo già visto una certa notevole preoccupazione anche nel sistema ricettivo, tra l'altro. I due poli ospedalieri potrebbero risolvere in qualche modo questo tipo di preoccupazione. In questi giorni si rincorrono gli appelli, anche i commercianti dunque chiedono un regalo per le loro attività e per i padovani. Sarebbe il più bel regalo decidere, sapere cosa succederà. Questo già è un indice di comprensione. Il sindaco Giordani, per tenere buona la parte più radicale della sua maggioranza, dice di non volere la dismissione del vecchio ospedale per non creare un buco nero, ma allo stesso tempo non mette nelle condizioni di poter creare il doppio polo, approvato anche dalla regione, dall'università e dall'azienda, non cedendo i terreni gratuitamente.